Questa è l'occasione per così portare all'attenzione vostra un contributo di esperienza che nasce ormai da lontano perché mi riferisco in particolare a un regolamento che fu approvato nel 2011 e che poi ha avuto un'evoluzione di cui poi parleremo. Ed è un tema che sicuramente è di interesse proprio per le implicazioni rispetto alla platea degli interlocutori, nel senso che qui l'esperienza è mirata in particolare all'utilizzo dei beni immobili da parte del terzo settore. Allora, per entrare subito e per rispettare anche le tempistiche che ci siamo dati, le mie slide sono piuttosto didattiche, nel senso che non cerco di dare proprio qualche spunto di riferimento. Una prima affermazione, i beni immobili dell'ente locale da sempre rappresentano una risorsa, sia per l'ente che per gli utilizzatori. Può sembrare una affermazione banale, e in effetti lo è, ma la portata è intrinseca. Qui si tratta di favorire una sinergia. Troppe volte abbiamo visto patrimoni che poi rimangono allo stato morto, nel senso che non vengono utilizzati perché costa mantenerli, perché hanno dei costi importanti, ci si aspetta una redditività di un certo tipo, e quindi il paradosso è che poi rimangono lì e questo impoverisce la struttura sociale. Io voglio fare una piccola vena polemica, perché questa è la mia esperienza, parlo del ruolo, per esempio, delle sovrintendenze. Io non discuto che le sovrintendenze devono svolgere un ruolo di tutela del patrimonio nella sua conservazione, ma se la sua conservazione significa poi porre talmente tanti vincoli e obblighi, in realtà vediamo crolli quotidiani di edifici che dovrebbero essere salvaguardati, ma quando manca questa volontà di mettersi intorno a un tavolo e di capire qual è il fine primario, cioè far vivere un bene o nascondersi dietro una teorica salvaguardia, i risultati li vediamo sotto gli occhi di tutti. E allora perché? Se il bene immobile è una risorsa, dobbiamo trovare modalità che siano di convenienza reciproca, per l'ente che non deve vedere semplicemente nella redditività la finalità, ma deve invece pensare all'utilizzo. E dall'altra parte i soggetti che hanno questa opportunità e quindi possono trarre dall'immobile un'importanza, un'importante leva per poter svolgere meglio le proprie attività. Tutto questo però presuppone delle regole e quindi concetti che in questo momento sono all'ordine del giorno. Una regolamentazione in grado di assicurare trasparenza nella scelta degli utilizzatori, giusta redditività e qui ho aggiunto attenzione particolare al terzo settore, perché già nel 2011, e lo vedremo, il regolamento del Comune di Cremona ha una sezione dedicata ai soggetti del terzo settore. E quindi una sorta di lungimiranza, non è stata solo la nostra amministrazione che nel 2011 già si dotava, ma il dibattito era aperto e quindi c'erano già esperienze in tal senso. E quindi le buone prassi portano a cercare di andare a individuare esperienze positive, magari riaffinarle, migliorarle, perché questa è l'evoluzione del nostro lavoro. Come è stato detto anche da chi mi ha preceduto, non siamo mai fermi. Dobbiamo continuamente lavorare per migliorare, per migliorarci, per migliorare, per dare un nostro contributo a un miglioramento complessivo. Allora, trasparenza nella scelta degli utilizzatori, perché? Perché il tema dell'utilizzo di un bene immobile, quando io mi sono trovato a diventare responsabile del settore patrimonio del Comune di Cremona, dopo un interregno lungo, in cui dovevo... Io sono molto attento anche a quello che è stato detto prima, perché dal 1986 mi occupo di appalti e quindi ho seguito e sto seguendo, però ho avuto anche altri incarichi all'interno dell'ente, tra cui ho avuto anche un incarico che doveva essere a scavalco per qualche mese sul settore affari sociali e che è durato otto anni, questo giusto per far comprendere come a volte... non si tratta di fare delle rotazioni, ma semplicemente di trovare qualcuno che si occupa di un settore, perché in questo momento, in quel momento, non c'era nessuno in grado di... o si pensava che... Quindi questo mi ha dato anche un'esperienza su temi che originalmente non erano nel mio bagaglio, ma però mi sono serviti e questo forse mi ha aiutato anche in altre circostanze. Però, torno a dire, perché la necessità di un regolamento? Perché in effetti, e spesso nell'utilizzo dei beni, si andava così, un po' a braccio. C'è un bene, me lo dai, me lo affitti, me lo... Allora, in una certa epoca storica evidentemente queste cose reggevano, ma poi abbiamo visto che, soprattutto nei momenti di crisi, c'è molta attenzione, no? Ma è poi anche giusto, perché la trasparenza non deve essere un... così, semplicemente una terminologia. Deve sostanziarsi in qualche cosa che fa capire che, se troviamo un interlocutore, questo deve essere un interlocutore che si è manifestato e che, soprattutto, se fa una proposta, abbiamo visto, per esempio, negli interventi precedenti e anche nelle varie forme, le manifestazioni di interesse. Io, per dire, mi compiaccio a volte nel pensare che negli anni 90 io avevo già adottato lo schema della manifestazione di interesse per stimolare un qualche cosa. La manifestazione di interesse, oltre che per stimolare, aveva anche un significato, quello di rendere pubblico l'interesse. Quindi dare corpo al concetto di trasparenza. La trasparenza deve essere un valore, non un ostacolo, perché dalla trasparenza nelle scelte e nella definizione dei percorsi, si ha sicuramente un vantaggio, quel cosiddetto vantaggio competitivo, che non è un vantaggio, semplicemente in termini economici, è un vantaggio per affinare e migliorare le proposte. Questo è il concetto che, secondo un punto di vista, deve essere veramente rimarcato. Giusta redditività, perché? Perché poi noi dobbiamo anche fare i conti, non solo con la nostra idea, ma dobbiamo anche rendere chiaro che il bene deve, ho detto prima, una risorsa, deve essere in grado di, che sia riconosciuta questa sua capacità di produrre un vantaggio. Lo chiamiamo redditività, lo chiamiamo in un'altra maniera, ma il concetto deve essere questo. Tanto è vero che poi magari porterò all'attenzione un recentissimo pronunciamento di una procura della Corte dei Conti, cioè di una sezione della Corte dei Conti, che non dimentichiamo ormai, non ci spaventano più i tribunali, non ci spaventano più i TAR e i Consigli di Stato, che poi anche volte a loro decidono secondo l'umore, non ci spaventano tantomeno le pronunce dell'ANAC, che ormai è in via di estinzione, viene da dire, ormai viene affossata quotidianamente nel suo ruolo, ma ci spaventano molto invece le Corte dei Conti, perché poi tutti noi abbiamo, parlo per un comune, i nostri ragionieri capi, i quali ogni volta che fai un'azione ti agitano lo spauracchio, i revisori, la Corte dei Conti, bisogna avere l'attenzione anche di sapere di cosa stiamo parlando per le diverse implicazioni anche a livello. E poi l'attenzione particolare del terzo settore, e qui arriviamo a un altro aspetto, perché devo passare alla slide successiva, appunto facevo riferimento al regolamento adottato il 28 novembre 2011, il regolamento adottato al Comune per l'affidamento di beni immobili a terzi, e distingue, oltretutto mi ho portato all'attenzione anche questo regolamento, per cui fra i documenti che potranno essere messi a disposizione di tutti, poi magari ci torniamo. Però il regolamento distingueva due sezioni, i beni a utilizzo commerciale, e i beni invece dedicati con particolare riferimento alla categoria del terzo settore. immobili quindi titolo terzo per l'attività nel campo del volontariato, dell'associazionismo e della cooperazione sociale. Tutti temi che sono stati ampiamente ripresi poi dal decreto legislativo 117, quindi dal codice del terzo settore, che proprio nelle sue articolazioni poi dà anche l'indicazione di queste categorie soggettive. e che cosa si è pensato? Innanzitutto la valorizzazione, l'articolo 8 del regolamento riconosce espressamente i valori sociali dell'attività offerte dai soggetti del terzo settore, ritenuti indispensabili per il corretto sviluppo sociale nel rispetto del principio di sussidiarietà previsto dal titolo quinto della Costituzione. Il concetto di principio di sussidiarietà che permea già la nostra carta fondamentale ma che poi deve tradursi anche in strumenti. Quindi l'attenzione al terzo settore proprio per cercare di dare al meglio le possibilità per creare quelle sinergie utili per poter valorizzare il ruolo. E quindi non a caso questo preambolo nell'articolo 8 di un principio fondamentale. Dopodiché i soggetti coinvolti abbiamo visto le associazioni volontariato, associazioni cooperative sociali, società di mutuo scorso, associazioni familiari, tutta la più ampia gamma chiamiamola così degli interlocutori che poi questo già anticipava elencazioni che poi ritroviamo più puntualmente e esplicitamente anche nel codice. Però non dimentichiamo che questo è un documento del 2011 quando quindi nel 2011 non c'era magari ancora questa consapevolezza degli interlocutori e soprattutto il tentativo di dare una organicità di insieme ai campi di intervento sotto il profilo quindi oggettivo e sotto il profilo soggettivo. Allora abbiamo parlato di trasparenza qui un primo elemento fondante del regolamento del 2011 è l'avviso periodico delle disponibilità degli ambienti pubblicato su un'apposita sezione perché di fatto quando mi sono approcciato al tema ho metodologicamente ritenuto che il primo elemento fosse ma noi di cosa disponiamo quali sono gli ambienti che possono essere messi a disposizione di terzi quindi gli strumenti potevano essere poi collegati alla natura del bene un bene del patrimonio indisponibile non demaniale solitamente ma del bene del patrimonio indisponibile oppure del patrimonio disponibile ma l'importante era innanzitutto una mappatura delle disponibilità e trasparenza rende redotti tutti che noi il comune disponeva di questi ambienti in modo che se un soggetto fosse stato interessato avrebbe potuto verificare un interesse e a questo punto proporre la propria richiesta di essere di diventare utilizzatore del bene allora naturalmente che cosa è importante è importante stabilire come assegnare questo bene una volta che arriva una richiesta o magari più richieste sullo stesso bene quindi il concetto di trasparenza non è semplicemente collegato alla divulgazione degli ambienti ma anche dare evidenza di come poi l'amministrazione avrebbe scelto l'interlocutore e quindi ci siamo dati alcuni criteri io li ho sintetizzati ma nel dettaglio appunto sono la rilevanza della funzione svolta adesso magari vado a leggere più puntualmente alcuni passaggi riconoscimento della funzione svolta nel tempo e nella città come rilevante per fini pubblici o per l'interesse generale delle vigenti leggi dello statuto comunale o dei regolamenti quindi un'attenzione all'attività le finalità perseguite finalità prevalente perseguite dal soggetto attraverso l'attività per esercizio della quale viene richiesta l'assinazione del bene immobile comunale in linea con i programmi e gli obiettivi dell'amministrazione comunale se ci deve essere una sinergia ci deve essere anche una coerenza di interessi chiaro che se uno mi propone di realizzare un qualche cosa che è completamente avulso allora anche questo è un elemento da prendere in considerazione struttura e dimensione organizzativa richiedente privilegiando le realtà associative di volontariato espressione del territorio e con minore capacità economica quindi quando parlavo di redditività la redditività deve essere collegata anche al fatto che però io intendo sostenere quei soggetti che hanno meno risorse e che quindi per i quali una un sostegno da parte dell'amministrazione può essere un elemento di svolta per rendere il principio concreto e altro elemento priorità alla condivisione degli spazi non è un elemento dal nostro punto di vista irrilevante perché bisogna anche porsi nell'ottica di superare una nostra tendenza tipica quella di ognuno vuole fare da sé per poi magari non essere in grado di sostenere le spese per mantenere o per quindi favorire la collaborazione la condivisione degli spazi perché a volte ci sono basta fare piccoli sforzi per fare in modo che più associazioni possano godere di spazi dove magari regolamentandosi la loro attività con fasce orarie o giornaliere o quant'altro possono ottimizzare anche le loro scarse risorse da qui questi elementi sono analizzati no dall'amministrazione attraverso un'istruttoria condotta dagli uffici che poi porta a una sorta di proposta a seguito dell'istruttoria rispetto a queste richieste in modo da poter rendere edotto in maniera chiara la motivazione per la quale viene utilizzato un bene e nei confronti di chi a quel punto non si esauriva qui la struttura del regolamento ma viene prevista anche una possibilità di supporto economico in termini di riduzione del canone ma questo perché l'amministrazione attraverso un buon regolamento ha inteso così dare particolare rilievo a una serie di ambiti per i quali la riduzione del canone che vedete tra i 30 e l'80% tra i 30 e i 60 a seconda dei vari campi poteva dare ulteriore significatività al ruolo svolto dal terzo settore in particolare i campi naturalmente la riduzione è motivata in ragione del tipo di attività e di tutti quei parametri che abbiamo visto prima poteva anche non essere poteva anche limitarsi a una riduzione standard e quant'altro ma attraverso oltre che al tema della riduzione e qui si apre quindi l'argomento di sviluppo di questo regolamento già questo regolamento prevedeva il comodato il regolamento appunto ammetteva il comodato con una particolarità per i soggetti operati nel settore del volontariato convenzionati con il comune per progetti di particolare rilevanza sociale senza affinità di lucro finalizzate la prestazione di servizi di interesse pubblico o di carattere istituzionale da svolgere con l'eventuale coinvolgimento della struttura comunale proposta quindi a monte ci dovrebbe essere già una convenzione che ipotizzava e l'abbiamo visto prima per esempio il tema della della situazione di volontariato svolgere servizi che non sono che magari sono più convenienti rispetto al mercato ma in questo caso c'è semplicemente il rimborso delle spese da parte dell'associazione non viene riconosciuto un corrispettivo in senso proprio e allora in questo caso un'ulteriore possibilità per favorire l'erogazione di servizi convenzionati era anche data dal fatto di poterti dare magari un ambiente una sede a titolo gratuito che però doveva avere questo legame ora questo tema che quindi già noi come comune abbiamo messo in atto a partire dal 2011 ha avuto poi una svolta nel 2000 cioè a seguito dell'entrata in vigore del testo unico del terzo settore perché l'articolo 71 quindi il regolamento ha avuto poi un'estensione con questo atto di indirizzo che è del 16 ottobre 2019 perché è un atto di giunta e non è un atto di consiglio perché in realtà non è atto che uno sviluppo già di un di un di un istituto che veniva già previsto in atto di consiglio e quindi diciamo ha affinato la particolarità di un istituto che porto e tutto è anche ammesso a livello nazionale perché appunto dicevo perché i motivi dell'estensione come dato quale regola generale essenza dell'articolo 71 del decreto legislativo ora questa è stata un po' una chiave di volta perché l'articolo 71 consente proprio per i beni non utilizzati per fini istituzionali inutilizzati diciamo di metterli a disposizione i soggetti del terzo settore con lo strumento del comodato strumento del comodato che evidentemente la previsione normativa supera alcune resistenze rispetto al tema della redditività ma il comodato come quando poteva essere utilizzato perché occorreva una motivazione significativa proprio per scongiurare il pericolo di rischi e lo vediamo perché l'articolo che ho recuperato si intitola danno erariale per il comodato gratuito di un immobile ma perché quando è senza criteri predefiniti e quindi su questo poi sarà importante e questo mi ha consolato in realtà leggere questo perché dice beh ci siamo mossi secondo una logica che le stesse corti dei conti ritengono corretta d'altra parte facendo avendo una formazione dall'eguleio chiamiamo così quando ti chiedono ma siamo sicuri tu devi anche cercare di mettere gli amministratori nelle condizioni di adottare provvedimenti che siano il più possibile al riparo da rischi no? Quindi comodato con la regola generale che però naturalmente va verificata ogni qualvolta però il comodato in sé ha anche delle implicazioni positive che ho definito ai punti 2, 3, 4 semplificazione burocratica efficacia operativa ed efficacia gestionale io nel mio atto di indirizzo dico mio perché vabbè l'ho steso io poi è stato assunto dalla giunta però ho cercato proprio di dare il senso di queste affermazioni semplificazione burocratica il comodato consente di semplificare i diversi passaggi operativi e quindi rende più rapido l'iter procedimentale perché? perché in realtà presupponendo non il pagamento di una di una di un canone mettendo ben in chiaro quelli che sono e poi lo vedremo anche le dinamiche sottese consente di non coinvolgere tutta una serie di uffici che altrimenti in una normale locazione o concessione vengono coinvolti il fatto di non emettere per esempio bollette di pagamento evita di coinvolgere le ragionerie piuttosto che e anche gli uffici che emettono il tema della manutenzione ordinaria sicuramente a carico ma lo vedremo il codice del terzo settore consente di affidare al comodotario anche le attività per rendere funzionale il bene che è una sorta di straordinaria manutenzione non è un aspetto da poco soprattutto perché tutti gli interventi poi devono essere in qualche modo autorizzati verificati ma un conto è se un intervento è a carico dell'amministrazione oltre che le risorse per mettere il bilancio a volte non ci sono e quindi si corre il rischio di un impallo oppure bisogna ipotizzare i meccanismi di scomputo che sono farraginosi per tutta una serie di dinamiche burocratiche riprendiamo brevemente gli altri punti l'efficacia operativa l'attribuzione in caso infatti in capo al comodatario degli obblighi di manutenzione e degli interventi necessari a mantenere la funzionalità degli immobili consente di garantire la corretta conservazione del patrimonio comunale anche in previsione di un quadro di risorse economico precario perché poi è così la realtà di molti comuni sicuramente del comune a cui appartengo che le risorse sono sempre insufficienti e davanti alle giuste e legittime richieste di un utilizzatore di un bene che dice ma qui bisognerebbe magari la caldaia va cambiata o c'è l'impianto elettrico eccetera dice vabbè guarda io metto in campo questa opportunità però a questo punto nel do ut des ci sta anche che tu sia consapevole che questi interventi te li dovrai svolgere in autonomia ma proprio perché dall'altra parte non ti chiedo canoni o quant'altro efficacia gestionale l'ho detto prima il contenuto operativo più snello consente di sopperire alla progressiva riduzione di risorse del personale quale elemento di criticità riguardante l'intero apparato comunale questo è un argomento sì scusate avete fatto bene richiamami cecco di esse ma a volte io mi accaloro nella mia presentazione spero di non essere noioso però arriverò al punto e quindi abbiamo visto quelli che sono gli elementi importanti chiudo con due passaggi si applica per i beni non utilizzati o i fini istituzionali ha una durata non superiore da 12 anni perché abbiamo ritenuto che 12 anni fosse un periodo anche utile per eventuali interventi di cui si deve far carico per ammortizzarli da parte dell'utilizzatore perché appunto monitorazione ordinaria è quella necessaria per mantenere la funzionalità e il progressivo passaggio al nuovo regime perché molti vista questa opportunità ci chiedono ci stanno chiedendo quindi sta avendo un discreto successo di transitare da un regime quello della concessione o della locazione a questo sistema perché ha dato queste perché si intravedono queste opportunità voglio chiudere proprio un minuto citando quella decisione della sezione Corte dei Conti Campania sentenza numero 53 del 2019 recentissima che praticamente rispetto proprio al fatto che un'amministrazione aveva dato un comodato un bene non ha contestato il comodato ha contestato le modalità con cui è stato concesso nel senso attenzione dovevate darvi dei criteri per l'assegnazione e soprattutto ricordarsi che siccome il comodato è un beneficio dovete rispettare una regola che è quella dell'articolo del DLGS 33 con l'articolo mi pare 26 o 29 26 che dice che bisogna pubblicare periodicamente tutti i soggetti che godono di vantaggi economici il comodato è una sorta di vantaggio economico indiretto proprio perché è gratuito però datisi questi accorgimenti il comodato è sicuramente una opportunità che e chiudo veramente rispetto ad un campo come quello del terzo settore credo che possa essere una significativa opportunità risorsa per far sì che questa collaborazione diventi sempre più proficua e estesa grazie